A Trani, a Palazzo delle Arti Beltrani, è stata presentata la terza edizione del Sonic Scene, il Festival Internazionale del Cinema Musicale. La Kermess Cinematografica, che vede la sua anticipazione proprio in questi giorni nella vetrina internazionale del Festival del Cinema di Roma, è stata presentata dal sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, dall'assessore alle culture Felice di Lernia e dal direttore artistico e fondatore Lucio De Candia. La terza edizione di questo festival che abbiamo avviato già in passato con l'intervento dell'amministrazione è un festival che vuole creare in qualche modo un confronto tra diverse scene musicali e anche culturali a livello proprio internazionale in quanto tratteremo di temi e di paesi partenti a tutte le parti del mondo. Trani si presta molto a questo tipo di festival perché per vocazione storica è una città interculturale che ospita diverse culture, diverse religioni e ha dato anche i Natali o meglio gli antenati di Astor Piazzola che sarà uno degli autori che saranno trattati in uno dei film della manifestazione di quest'anno. Vedremo un film in prevalenza documentari, nell'ambito della competizione lungometraggi ci sono film che trattano di appunto il tango di Piazzola, della rumba catalana, della scena giapponese, ci sarà un film su un gruppo rock finlandese, uno su un gruppo cult russo dell'ex Unione Sovietica. Abbiamo iniziato con una scommessa della mia amministrazione, della nostra amministrazione, dell'assessorato delle culture, dell'assessore Felice di Lernia, una scommessa a cui probabilmente non tutti credevano inizialmente. Siamo alla terza edizione, un festival che sta crescendo sempre di più, quest'anno addirittura l'abbiamo di fatto lanciato al Festival del Cinema di Roma, ma soprattutto quello che ci piace evidenziare di come siamo di fronte a un processo di internazionalizzazione, evidentemente non soltanto di questo festival, ma della nostra città. Questo è un festival infatti che di fatto abbraccia tutto il mondo, diventa sempre più internazionale, sta evidentemente, sta crescendo questo festival, ma lasciatemi lo dire, sta un po' crescendo tutto il movimento che ruota intorno alla nostra città. Grazie.